Ad intervenire sul tragico caso del piccolo Maxime, morto a soli 5 anni, soffocato con un cuscino dal padre adottivo, affetto da patologie psichiatriche, tutta la comunità delle istituzioni che si dicono sconcertate di quanto avvenuto. Ad intervenire anche l'assessore regionale alle politiche sociali, Marinella Sclocco, che dice dobbiamo costituire quanto prima un garante per l'infanzia e l'adolescenza. L'Abruzzo è una delle poche regioni a non averlo ancora. Io ho cercato di dare un segnale già da diversi anni fa, quando ho presentato in consiglio regionale la legge sul garante dell'infanzia. La regione Abruzzo è una delle poche regioni che non ha il garante per l'infanzia, a prescindere dai fatti successieri è un problema. Allora ho posto l'attenzione a tutti i consiglieri regionali, ai capogruppo di opposizione e di maggioranza rispetto a questa questione. La rete di protezione sociale sui bambini non deve avere nessun tipo di smagliatura ed è importante che l'Abruzzo si doti di un garante per l'infanzia che garantisca tutto questo. C'è chiarezza sulla questione? Si è saputo qualcosa in merito proprio agli assistenti sociali? No, io non mi occupo di fare indagini. Sicuramente ci sarà la magistratura che indagherà, per cui non è il mio compito e non ho nessuna intenzione di farlo. Il mio compito è di cercare che queste cose non succedano e di collaborare con tutti gli attori sociali che devono garantire la protezione dei bambini.